Ciao bambini, benvenuti a questo nuovo programma che si intitola il nonno Arturo. Impareremo a cucinare, racconteremo storie, balleremo, canteremo e chissà quante altre cose faremo con nonno Arturo, ma vi voglio proprio presentare nonno Arturo. Nonno Arturo, nonno Arturo, ma quanto ci mette? Ma dove sei? Nonno Arturo muoviti che ti aspettano i bambini. Io sono un vecchiarello, un vecchietto. Vecchiarello, quanti anni hai nonno Arturo? Un momento, ciao bambini. Ecco, ciao nonno Arturo, staranno dicendo da casa. Faccio una fatica. Ma come mai fai così fatica? Ho un braccio solo, lo vedi? Lo vedo, cosa hai fatto all'altro braccio? Ma i fatti tuoi non te li fai mai? No, no, mi interessa, scusa, ti voglio bene, nonno Arturo, ti voglio bene, voglio sapere cosa hai combinato al braccio. Ecco. Allora cosa hai fatto? Ciao bambini, ciao a tutti. Ciao Flavia. Ciao nonno Arturo. Ma dai. Dove sei? Dove sarai nello schermo? Sarai su? Sono su. Su. Allora ciao Flavia. Ciao nonno Arturo. Ciao bambini. Beh mi sa che tutti ti staranno gridando ciao nonno Arturo. Esatto. Allora nonno Arturo non mi hai detto perché hai questo braccio che penzola? Io ti ho detto che non te lo dico perché ti devi fare i fatti tuoi. Va bene. Ecco. Vuoi sapere quanti anni ho? Sì? Quanti anni hai? 103. 103? Cioè 102 quasi 103. Ma se non hai neanche un cappello bianco? Eh ma questa è la tintura eh. Te li tingi? Ma sì. Ma vai dal parrucchiere? No no faccio da me. Faccio un brodo di carote e poi metto la testa nel brodo di carote per una settimana. Ah e fai dentro con la testa nel brodo di carote? Sì non è comodo eh non è comodo no no. Ma io no no. Sai cosa? Eh cosa? Respirare è un po' un problema respirare. Penso ma poi non ti fa male dappertutto la testa? Sei tutto storto dentro? Però la carota fa bene alla vista. Bravo quindi tu mangi tante carote? No no beh metto la testa dentro e vai. Ah e quello poi fa bene alla vista? Beh diciamo che mentre sto dentro non vedo niente eh. Ok. Però dopo vedo bellissimo. Ma quante stupidate stai dicendo oggi? Uè come ti permetti io sono un vecchietto eh. No ma l'ho detto in modo molto simpatico. Allora se è simpatico bambini ascoltate me. Va bene né uno due tre. Ha 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 ha. Va bene. Allora dove abiti nonno Arturo? Ragazzi ma questa non si fa mai i fatti suoi eh. Vuol sapere un sacco di cose ma glielo diciamo io sono a Bedano a Bedano? e dov'è Bedano? Bedano è un paese piccolo 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 ma piccolo quanto? piccolo così boh abbastanza piccolo che quando ti perdi ti trovano subito io quando ero piccolo ah meno male quando ero piccolo a Bedano giocavo a nascondino no? sì e facevo uno due tre eh trovato tana e cinque minuti è finito eh ma così non era divertente no non era divertente eh no e invece dove giocavo io ci mettevano ora che mi trovavano eh eh ma Bedano è piccola però è bella è bella eh è bella sì c'è la montagna i cervi i cervi? sì 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 e quando ci porterai a vedere Bedano? l'unico problema sono i migranti eh perché cosa fanno i migranti? ma no stanno lì ce ne sono tanti a Bedano ma sei piccolo ma così così dai ma poi forse non lo sanno cosa sono i migranti i nostri bimbi da casa ah e allora non glielo diciamo questa puntata e quando glielo diciamo? faremo una puntata speciale sui migranti ah 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 adesso però voglio sapere se sei capace a cucinare perché con i bimbi cucineremo eh ah sì 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 e cosa sai cucinare? guarda faccio l'uovo sodo l'uovo sodo sarà difficile fare l'uovo sodo è difficile? eh come si fa? l'uovo la coc oh ancora più difficile sì sì poi l'uovo al tegamino sarà ancora più difficile l'uovo come si dice? scrambled scrambled? ma che è strapazzato sì 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 strapazzato strapazzato addio quanto sono contento strapazzato ah quindi hai visto i miei capelli alla Trump che belli sì hai proprio dei bei capelli signora la Trump sì 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 e spiega ai bambini chi è Trump puoi soffare? eh adesso parla ma una volta all'anno sì la frittata solo una volta all'anno? sì perché è difficile cavoli oh oh no è difficilissimo e quindi cosa e tu cosa mangi? raccontami ma io mangio di tutto mangio le lasagne la pasta lasagne e pasta rosso alla bolognese col tonno e piatti esotici non ne mangi? tipo cosa? non so prima dietro le quinte mi parlavi di una roba strana ah sì cos'era? il couscous l'ho preparato per cena che tra un po' è ora di far cena eh couscous cos'è? ma cos'è? quando bussi alla porta couscous ma no quando bussi alla porta bambini ridete chi è? couscous couscous non Arturo quello è toc toc non couscous ah ti che risò? è sempre ragione il couscous è qualcosa che si mangia che assomiglia al riso quindi è riso è chiamalo riso no? riso come le risate riso no il couscous è il couscous il riso è riso allora scusa se tu mangi il couscous che non si sa cosa sia che sembra il riso ma non è riso perché non si chiama riso? ma non è riso e non può chiamarsi riso se si chiama couscous beh sì facciamo couscous è come se tu invece di chiamarti nonno Arturo ti chiami nonno Giacomo ma io mi chiamo Giacomo Arturo ma va ma come mi chiami io rispondo sempre prova a chiamarmi nonno Giacomo sì nonno Gertrude perché non rispondi? ma io non sono mica una donna ma hai detto che rispondevi anche se ti chiamavo in altro modo ho capito però io sono un nonno uomo ma io ho provato a farti uno scherzetto non è andato bene perché bambini sapete voi dovete ridere solo se le battute le faccio io se le faccio io non devono ridere 3 2 1 adesso ridi cosa fai? sono un po' stanchino ma sei già stanco che abbiamo appena iniziato ho capito ma tu prova a stare dentro un pupazzo tutto il tempo è difficile ma come sei dentro un pupazzo ma nonno Arturo cosa dici sei nonno Arturo ah sono me stesso? eh già eh ma adesso guarda te allora non solo un pupazzo ma no sei il mio amico nonno Arturo come Pinocchio anche lui non era un burattino era un bambino vero è giusto giusto e io sono un pupazzo vero che bello sono un nonno vero sei il nonno vero allora dove sono i miei nipotini? sono tutti a casa che ti guardano sono tantissimi ah tutti i bambini sono i miei nipotini? eh sì sono tutti i nostri nipotini anche i miei facciamo finta va bene? wow ho una famiglia grandissima sì e chissà quanto bene che ti vogliono sì però sono un po' triste mi fa male qui ti fa male il cuore? sì ma perché ti fa male il cuore? perché non si possono abbracciare e vedere tutti i bambini eh lo so ma c'è questo mostricciattolo che si chiama coronavirus che gira ancora e non si può dobbiamo aspettare che se ne va ma io ho un'idea dimmela questa idea cioè il segreto che ti salva da tutte le malattie davvero? e qual è questo segreto? si chiama amore oh è vero l'amore fa proprio tanto tanto bene l'amore e la filosofia i bambini secondo te lo sanno cos'è la filosofia? no non penso proprio eh io lo so io lo so io lo so io lo so cos'è? la filosofia bambini è quella regola che se voi la definite insieme ci dite questa è la regola tutto il mondo si può capire facilmente perché tutti hanno la stessa regola esatto la nostra filosofia è che noi dobbiamo essere felici insieme come te ridere sempre di tutto è vero bisogna sempre sorridere e ridere hai proprio ragione ecco bambini non siate mai arrabbiati e mai tristi perché il Naturo ve lo dice se sei felice campi cento tre no un po' di più cento cento dieci anni ma se tu ne hai cento tre cento tre no perché sennò dovrei morire domani non mi va no avrei ragione devo fare un sacco di cose devo andare in vacanza alle Maldive poi in Val Verzasca oh che bella la mia valle ma guarda che la Val Verzasca meglio delle Maldive allora ci andiamo con tutti i bambini va bene? eh sì però adesso posso dirti sono fa male un po' la testa sei stanco ma vorrei un po' addormentarmi vuoi dormire? allora mi fanno anche male le braccia anzi e beh a cento tre anni il braccio il braccio il braccio si parla bene sì allora nonno Arturo diamo l'appuntamento a tutti i bambini per domenica alle sei e ci ritroviamo qui con nonno Arturo alle sei nonno Arturo saluta ciao bambini ciao io dormo ciao ciao ti dormi buonanotte non russare eh nonno Arturo che sei nonno Arturo ho detto di non russare questo russa oh povero a me bambini ci vediamo domenica ciao bimbi un bacione ciao ma Arturo dormi ciao ciao ciao